Sorella Luna, Luciana Litizzetto! Noi, poi ci sono ancora loro! Hai visto? Eh sì, perché non sanno come andare via. Fai a salutarle se vuoi, ce la fai. No, ma perché sai, c'è una differenza pazzesca, che io sono andata a scuola dalle suore. Eh, lo so, guardate i risultati. Suore, non mi venivano mai insieme a me, anzi, mi mandavano sempre in presidenza. Non mi potevano vedere, è esattamente il contrario. Perché di suore ce ne sono di due tipi, se posso dire. Sì, prego. Allora, tipo, ci sono quelle che sono alte, magre, pallide. Sì. Ah, proprio di tipi di tici di fisionomica. Con l'alito di porro bollito. Vabbè, adesso questo però... Qua, stai brava però! Sì, stai brava. E poi ci sono invece le madri superiore, che sono due braccia rubate all'agricoltura. Il naso rubato de Pardieu. E poi il 46 di piede, tipo la sorella di Mesner. Invece lei ha una caratteristica ancora diversa. È tipo Trilli Campanellino. A 25 anni, 26 anni, giovanissima. È una bambina. Tanto somiglia alla Serracchiani, è uguale. Ah, tu vuoi dire... No, non so se la Serracchiani somiglia a una suora, o se la suora somiglia alla Serracchiani. E poi si è cambiata anche il nome. Quanti anni si è andata dalle suore, tu? Sono andata alle medie e alle superiori. Guarda come sono ritorno. Pensa se non andava. Pensa se non andava. Va bene. No, ma... No, però stasera... Poi si è anche cambiata il nome. Stasera però... No, voglio vedere... No, ma tu le hai lasciate apposta qua. No, io le ho... State lì, perché voglio vedere con le intemperanze verbali come va. E vabbè, ma poi loro mi benedicono dopo. Eh, ma dipende, dipende. Se c'è premeditazione... No, ma senti, mi ha fatto piacere anche che si è cambiata il nome, che non è più Suor Cristina, ma Sister Cristina. Ah, sì, Sister Cristina. E lì doveva esagerare ancora, lo dico, farsi chiamare Sister Cristi. Così era anche un omaggio al titolare. E superavamo... Eh, in modernità. No, poi dici tanto a me. Dici tanto a me. Ma lei ha fatto la cover di Laika Vergi. Non so se mi spiego, eh. Cioè, è come se Renzi facesse la cover di Rosso Relativo. E Brunetta di Salirò. Non so se mi spiego. Però hai visto come ha detto bene, come ha spiegato tutto. Sì, ho capito. Ma allora, però, adesso siamo sempre. Il test di Laika Vergi è la storia di una. No, aspetta, scusate, scusate. No, no, non lo dice, non lo dice. No, non lo dice, perché abbiamo detto prima che... Sì, abbiamo spiegato. E ho capito, allora non posso dire neanche questo? No, no, non puoi, no, neanche. Vuoi spiegare il test di Laika Vergi? No, è quello. Non posso spiegare. Non posso spiegare. Mi dispiace. Ciascuno interpreta come credo. Va bene, io spero solo che non faccia la cover di Il Triangolo, no. No, 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 no.